Spostiamoci, andiamo da un'altra parte, anzi, più precisamente andiamo in cerita l'alto ad Avetrana, perché uscirà quando, domani? Il 25. No, dopo domani, così come The Substance credo, o forse no. Il 24 esce The Substance. Vabbè, questi giorni. La serie di cui si parla veramente da quel dì. Dal poster. Dal poster. Avetrana, qui non è Hollywood, serie di mini serie di Pippo Mezzapesa sul delitto di Avetrana. Presentata anche questa al Festival del Cine di Roma e per questo ve ne possiamo raccontare, perché l'abbiamo vista tutta in anteprima. In anteprima, esatto. Questa serie che sarà trasmessa da Disney+. Sì, avete capito bene il delitto di Avetrana su Disney+. Vabbè, è andata così. Comunque, fatto sta che abbiamo visto questa serie. Ovviamente, gli ascoltatori e le ascoltatrici letture metropolitane conoscono il mio amore per il true crime, quindi era chiaro che io, insomma, subito, diciamo, ho alzato le orecchie quando ho saputo che sarebbe stata girata questa serie. Ma c'entra per caso la tua passione? C'è una puntata sul delitto di Avetrana di indagini, ve la consiglio, ovviamente. Anche perché, come succede in indagini, il delitto di Avetrana è interessante per, diciamo, alcune motivazioni che esulano dal delitto in sé e che vanno proprio a, diciamo, approfondire il rapporto fra, come sempre accade, fra media e cronaca nera. Perché quello che succede nel delitto di Avetrana è che c'è una, proprio un'invasione dei media all'interno del processo, delle indagini, del racconto di questa storia. Ma proprio una roba allucinante che, diciamo, viene raccontata molto bene, credo, in questa miniserie. Non a caso si chiama Qui non è Hollywood. Qui non è Hollywood, perché c'è questa scritta sulla casa, diciamo, dei misteri. perché è anche una sorta di fascinazione che subisce in particolare Sabrina Misseri, che è stata accusata poi, cioè definita colpevole, insieme alla madre dell'omicidio di Sara Scazzi, e che, diciamo, era molto presente visivamente proprio nei momenti prima ancora che venisse ritrovato il corpo. E in generale, in tutta questa storia, sembra quasi che avesse una sorta di, appunto, fascinazione per il mezzo televisivo, che, boh, vai a sapere. Però, insomma, la serie punta anche molto su questo, quando racconta il punto di vista di Sabrina Misseri. Quello che succede è esattamente questo, cioè si affrontano nelle varie puntate i vari punti di vista dei protagonisti. Per chi non conosce la storia, per sommi capi, si tratta dell'omicidio di una sedicenne, quindicenne, molto giovane, che è appunto Sara Scazzi, che è la cugina di Sabrina Misseri, Cosma è la madre di Sabrina, e poi c'è Michele Misseri. Come è finita la storia processuale, che è stata quantomai variegata, la stavo ripassando su Wikipedia, perché non mi ricordo benissimo tutte le vicende, perché praticamente all'inizio Michele Misseri confessò l'omicidio, poi ritrattò dicendo che era stata la figlia con la madre, quindi con sua moglie, poi ritrattò questa confessione dicendo di nuovo di essere stato lui. Quindi c'è tutto un giro. Alla fine, poi, dal punto di vista legale, processuale, sono state accusate e, come si dice, condannate, credo all'ergastolo, sicuramente Sabrina Misseri all'ergastolo, mentre Michele Misseri è stato condannato solo per occultamento di cadavere, e infatti è fuori, lui adesso vive nuovamente nella sua città ad Avetrana. Quindi, insomma, a prescindere poi dalla storia legale, quello che fa Pippo Mezzapesa è ricostruire la vicenda, in particolare proprio i giorni immediatamente precedenti all'omicidio e poi i successivi, fino ad arrivare appunto al ritrovamento del cadavere, alle prime accuse, ecco, mettiamola così, però dal punto di vista di tutti i protagonisti. Se appunto avete sentito la voce di una persona che era sicuramente molto più interessata all'argomento, io invece mi sono approcciato con il sentimento, ma anche lo spirito diametralmente opposto, perché dell'argomento true crime io sono quello che sicuramente regisce con più freddezza, non sono molto interessato, anzi, la morbosità che è proprio nel titolo di questo progetto, di questa miniserie, è esattamente il motivo per cui non mi voglio interessare di queste cose, ma non è che non mi interessa, proprio non voglio, però il progetto di, appunto, Capitanato e diretto da Pippo Mezzapesa vuole in quattro puntate rendere, fotografare, anche raccontare questa vicenda da quattro punti di vista differenti, ma mettendoli sulla linea del tempo. Prima vediamo lo sguardo di una persona, di una personaggia, poi di un altro personaggio, poi di un altro ancora e poi di un altro ancora. Non c'è la modalità... Non si sovrappongono. Non c'è la modalità Pulp Fiction, cioè che vediamo da punti di vista differenti uno stesso momento storico, ma c'è l'interesse di vedere anche il suo succedere nel tempo, gli eventi dell'evento che effetto ha sul singolo personaggio è di puntata, 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 sono quattro, quindi i protagonisti vengono abbracciati completamente. La vicenda viene raccontata con dovizia di particolari, ma appunto su tutto la linea, sulla verticale del tempo, non andandoci di punta orizzontalmente. C'è da dire anche che lode anche a Groenlandia, che è una casa di produzione italiana, che un po' fa il lavoro che fa la A24 in questo momento nella cinematografia mondiale, cioè che in Italia porta dei prodotti... È la stessa, banalmente, che ha trasposto in documentario il film, che tra l'altro è stato al centro di questo Avetrana, qui non è a Hollywood, cioè Sara, la ragazza di Avetrana. Su Netflix, se non sbaglio, è disponibile un documentario prodotto da Groenlandia, proprio partendo da questo libro, da queste vicende, ma è interessante come questo progetto, dato da Groenlandia, in mano ad una persona che si occupa di documentario, ha prodotto quel prodotto lì. Mentre, dato a Pippo Mezzapesa, che ha anche una sensibilità locale, lui è pugliese, tra l'altro, è molto vicino, perlomeno geograficamente, ai luoghi della vicenda, tende a essere quindi anche molto più caldo nel raccontare, anche avendo un stile un po' onirico, ogni tanto anche ha delle digressioni, sentiremo anche tamarre, dei guizzi un po' fuori dalle righe. Allora, diciamo che partiamo dal presupposto che quello che lui indaga o quello che lui racconta è effettivamente un ambiente popolare, nel senso che non stiamo parlando di una famiglia alto-borghese, stiamo parlando di una famiglia assolutamente, diciamo, mondana, normale, paesana, Sì, paesana, misteri che fa il contadino, praticamente. Cosma fa, la donna, non lavora, che è la casalinga, esatto, non mi viene il termine, è la casalinga. La madre di Sara Scazzi è all'interno dei Testimoni di Geova, in maniera, diciamo, ovviamente, Testimoni di Geova, che puoi fare un po' sì, un po' no, comunque è un'organizzazione abbastanza chiusa. E quindi non stiamo parlando di una comunità particolarmente open mind, ecco, mettiamola così. Quindi quello che lui racconta è effettivamente reale, realistico, ecco, perlomeno. La cosa, secondo me, più interessante, una delle cose più interessanti è sicuramente la caratura attoriale, il livello degli attori, perché stiamo parlando di persone che hanno letteralmente, nel caso della ragazza che interpreta Sabrina Misseri, messo in stand-by la propria carriera per questo, cioè fermi, concentrandosi su questo esteticamente, fisicamente, mentalmente, si tratta di Giulia Perulli, che ha fatto una trasformazione allucinante, così come anche Vanessa Scalera, che forse ricordate per l'interpretazione di Imma Tataranni, se non sbaglio, vero? Che, insomma, ecco, adesso è Cosima Misseri. Però ci sono due approcci differenti. Se Giulia Perulli, tra l'altro era, fino a poco fa, una che stava dall'altra parte della macchina da presa, una tecnica, un'aiuto regista, ha deciso di, oltre a mettere in stand-by la sua carriera, anche prendere peso in una maniera molto evidente, per entrare, ma ha una intensità di sguardo, che probabilmente gliela ruberanno dalla macchina da presa e farà sicuramente tanti progetti. Il lavoro, invece, su Vanessa Scalera è stato più di make-up, ma ha un lavoro molto interessante, ha una qualità altissima, addirittura... No, bravissimi, tutti, anche Paolo De Vita, che fa Michele Misseri. Michele Misseri era la sua caratteristica, così come anche quella del padre di Sara Scazzi, che, scusate, non mi ricordo come si chiama, però, insomma... Giacomo? Non me lo ricordo. No, Claudio Scazzi. È il fatto che non si capisse bene quello che dicono, ma proprio le persone vere, perché, ovviamente, essendo persone umili, molto, che parlano molto dialetto, quando c'erano le interviste, veramente non si capiva quasi niente. E loro hanno, diciamo, ripreso in maniera veramente molto, molto fedele questa caratteristica, e devo dire, non deve essere stato semplice. Chiudiamo, perché siamo arrivati alla fine anche della trasmissione. Se, diciamo, vi può piacere il genere, ma in generale, se siete curiosi, è anche di vedere degli attori veramente bravi che fanno il loro lavoro. A vetrana, qui non è Hollywood, le ho trovate su Disney Plus da questa settimana, in questi giorni. Se ne parlerà. Se ne parlerà, se ne parlerà. Chiudiamo direttamente? No, c'è anche una piccola appendice. Allora, veloci. Però, appunto, abbiamo parlato di guizzi un po' sopra le righe. La colonna sonora un po' più... Ha avuto delle scelte un po' facili. Però, quando è partita questa canzone, il primo passaggio cinematografico, audiovisivo di Fabri Fibra, sicuramente... Era il 2010, eh. Quindi è contemporaneamente... Cioè, c'è un'aderenza periodica contemporanea e precisa. Parte e, dentro a vetrana, qui non è Hollywood, che, tra l'altro, farà parlare di sé quando andrà in onda, c'è... Rap futuristico! Sì! Rap futuristico! Stapperebistico! Ma cos'è sta paranoia?